Musica per videogames nasce a Roma, il primo in Italia a un dipartimento ideato da IVE, l'Accademia Italiana Videogiochi. La novità è stata lanciata all'Ode di Roma in occasione del Jesus Was Homeless Intimate Live Experience, uno showcase che segna il ritorno della band di Tiziano Rizzuti, lanciata in Giappone nel 2008. Una grande sfida per l'Accademia. Luca De Dominicis, presidente e fondatore di IVE. L'Accademia Italiana dei Videogiochi forma chiaramente per fare videogames in tutte le piattaforme, quindi PlayStation, Xbox, PC e quant'altro. Sono tre corsi triennali, programmazione, grafica e game design e diciamo che l'Accademia ha sempre avuto una grandissima passione per la musica. Così forte che in tempi non sospetti ha cominciato a sostenere band rock italiane come anche il Jesus Was Homeless per esempio. IVE aprirà una parte gigantesca per la musica, per fare colonne sonore, sonorizzazione e perché senza musica la vita non può esistere. E così anche il videogioco che è passione, pathos e ricerca senza musica non può andare avanti. Quindi IVE completa il suo percorso con il quarto corso che sarà musica per videogiochi. Noi pensiamo al videogame come l'ottava arte. È una piazza centrale in cui tutte le arti classiche confluiscono. La musica è un'arte essenziale per l'essere umano, per la sua espressione. Tantissimi videogame hanno intere orchestre sinfoniche che producono il loro soundtrack. In questo senso noi non possiamo esimerci. Da qui parte un'altra grande sfida. Avremo una partnership internazionale importantissima, proprio a livello musicale. Una delle più forti scuole del mondo, a terra a Roma, a terra con IVE per fare un corso internazionale. Direttore di questo nuovo dipartimento è Andrea Federici. L'obiettivo di questa avventura è sdoganare il concetto di compositore in Italia. Perché in Italia abbiamo questa concezione di compositore con carta e penna che scrive fino a notte fonda. E poi va in studio di registrazione e fa suonare la sua musica ad altri. E qui vogliamo fare qualcosa di diverso. Vogliamo dare la voce a tutti i tipi di musicisti, elettronici, chitarristi, strumentisti. Il compositore è qualcosa di diverso. Deve riuscire con la produzione musicale attraverso il computer a dare voce ad un'immagine, ad un videogioco che sia interattivo o meno. E quindi è qualcosa di innovativo che è molto molto comune all'estero ma in Italia si vede ancora poco. Il lancio è avvenuto durante lo showcase della band Jesus Was Homeless di Tiziano Rizzuti che è pronta a tornare sul panorama musicale con tre nuovi inediti. Rilanciamo proprio un ritorno sulle scene, siamo stati fermi per un po' di tempo. Però insomma con questo tipo di collaborazione con IVE, col quale siamo stati insieme per parecchio tempo per il percorso, siamo arrivati insomma a questo nuovo, nuova uscita che sarà di un brano che si chiama Dead. Parla proprio di una rinascita, quella che è una rinascita artistica, quello che è un rilancio sulle scene. Quindi comunque si rifà sia da un punto di vista personale però anche proprio da un punto di vista proprio discografico. E quindi stasera è proprio una preview di quello che sarà un nuovo lavoro artistico.